Salve a tutti, in questo video voglio mostrarvi un filmato che ho trovato casualmente su internet e in base a quello che mostra risulta estremamente interessante. Infatti in questo video, che poi vedrete anche voi, una persona registra a bordo di un aereo, con la propria telecamera, o una fuoriuscita di una sostanza tramite un tubo, diciamo tra virgolette uno scarico, sull'ala destra di un velivolo. Il video appunto mostra la fuoriuscita di questa sostanza da un tubo sulla destra dell'aereo e potrebbe risultare estremamente interessante. Infatti su questo filmato, su questo video, possono essere fatte due teorie, due ipotesi. La prima è che quella registrata nel video è uno scarico di carburante, denominata anche fuel dumping, che viene effettuata dai piloti in caso di estrema necessità, di pericolo, e viene fatto maggiormente per alleggerire il velivolo in casi davvero estremi, davvero pericolosi, in fase veramente delicata, diciamo così, che mettono in pericolo la sicurezza delle persone, dell'equipaggio e di tutti. Quindi è un tipo di attività, appunto questo fuel dumping, uno scarico appunto di carburante, fatto in estrema necessità, in una fase di pericolo, e come potete vedere nel video, non credo che fossero tutti in pericolo, però tutto può essere, può essere anche il fuel dumping. La seconda ipotesi, si può dire che l'attività registrata da questa persona è appunto un'emissione delle scie chimiche. E comunque ve ne ho parlato già, sia sulla mia pagina Facebook, sia su YouTube, di cosa sono le scie chimiche, le teorie e le attività di geoingegneria clandestina, che sono estremamente pericolose e soprattutto sono attività reali, perché le prove appunto ce ne sono tante. Ovviamente se questo firmato avrebbe registrato un'emissione di queste scie chimiche, sarebbe una delle prove più importanti, anzi la prova più importante, la prova definitiva, dell'esistenza di queste scie chimiche. E appunto dimostrerebbe una volta per tutte, con una sicurezza assoluta, l'esistenza appunto di queste attività di geoingegneria clandestina. Ovviamente può essere di tutto, può essere tutto in quel filmato, può essere di fuel dumping, un'emissione di una scie chimica. Ovviamente, secondo me che sostengo questo tipo di teorie, per me quella filmata in questo video è appunto una scie chimica. ovviamente lascio a voi le considerazioni, cioè come devo dire, lascio a voi un po' giudicare il video seguente, perché appunto può essere di tutto. Io ora non dico altro perché mi sono divulgato già troppo, e comunque se il video, se trovate interessante sia la mia pagina Facebook, sia i miei video, iscrivetevi, commentate, condividete, comunque per me sarebbe un risultato estremamente elevato, estremamente importante, perché oltre ad essere un grande appassionato di misteri, vuole anche far capire alle persone come è fatta la realtà, che appunto è più complessa di quanto crediamo. Ora vi lascio al video e fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. Grazie. 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 Grazie.